Buon 25 aprile, la festa più bella, più preziosa e più attuale che abbiamo. Un buon 25 aprile anche da Beirut. E partiamo dal Libano oggi, perché ieri pomeriggio, proprio nel momento in cui premevo pubblica alla puntata, l'esercito israeliano ha condotto un'azione molto pesante nel sud del Libano, annunciando di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato che la metà dei comandanti di Hezbollah sono stati eliminati e che l'altra metà si nasconde e abbandona il sud del Libano. In realtà, facendo un paio di calcoli, dall'8 ottobre sono stati uccisi tra Siria e Libano 287 combattenti e quadri di Hezbollah. Ora, le stime più conservative dicono che Hezbollah ha circa 100.000 combattenti addestrati e che l'unità d'élite al-Radwan conti da sola circa 2.500 uomini. Quindi i numeri non collimano tra una dichiarazione e l'altra. Secondo Hezbollah, per quanto credibili possono essere le affermazioni dall'interno del partito, sono soltanto 5 i comandanti uccisi dall'8 ottobre e una fonte vicino al partito, citata dal quotidiano libanese El Lorient Le Jour, spiega che il movimento non dipende da uno o due comandanti, ma va considerato un'organizzazione. Anche Mohamed Ajhali, ricercatore del Malcom Kerr Carnegie Mitchell Middle East Center di Beirut, conferma che l'affermazione di Gallant è esagerata. Ma torniamo in cronaca, Gallant ha anche affermato che Israele sta valutando diverse soluzioni per creare una diversa situazione di sicurezza. Frasi che ci riportano alle numerose minacce israeliane di invadere il Libano a fine primavera. Non è ancora chiaro quanto realistiche e quanto puramente retoriche. Intanto, oggi un camion cisterna a Balbek, nella valle della Beccà, è stato colpito da un missile lanciato da un drone. Il conducente è stato ferito non gravemente. Israele non ha rivendicato l'attacco, anche se è difficile che qualche altra forza della regione abbia potuto usare un drone per colpire Balbek. Resta comunque un nuovo attacco in grande profondità in Libano. Andiamo invece a Gaza, torniamo a Khan Yunis. Sono saliti a 392 i corpi recuperati dalle fosse comuni nei due ospedali distrutti dall'assedio israeliano, il più grande dei quali è, o meglio, era l'ospedale Nasser. Ma soltanto 65 persone sono state finora identificate e il resto dei corpi rimane impossibile da identificare un po' a causa della decomposizione avanzata e un po' a causa della mutilazione. Gli Stati Uniti hanno dichiarato oggi di volere risposte dalle autorità israeliane dopo la scoperta di queste fosse comuni e il capo della protezione civile di Khan Yunis, Yameen Abul Suleiman, ha detto al Jazeera che l'unico modo per averle è garantire l'accesso ai media internazionali. E mentre nei profili social di propaganda israeliana vicino al governo circolano presunte prove che le fosse comuni non esistono, il governo israeliano in realtà prende tempo e sostiene che l'esercito non abbia seppellito i palestinesi uccisi durante l'assedio, ma non nega, nemmeno l'esercito, l'esistenza di queste fosse comuni. Dico però che Israele prende tempo perché nel mentre si avvicina l'invasione di Rafah e probabilmente il governo spera che l'attenzione un po' si divida tra Li e Khan Yunis invece di essere tutta concentrata. L'esercito israeliano ha informato il governo che le truppe hanno completato la preparazione per l'operazione a Rafah e che il governo a questo punto dovrà fornire una data, dopodiché partirà la presunta evacuazione degli sfollati e poi l'operazione militare vera e propria. Torno a parlare oggi di negoziati. Haaretz scrive che il gabinetto di guerra israeliano si riunisce oggi per discutere la ripresa dei negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. I negoziati sono in stallo da circa due settimane con Israele che accusa Hamas di aver inasprito la propria posizione. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati ha detto a Haaretz che un'opzione presa in considerazione o che potrebbe essere presa in considerazione è quella di spingere per un accordo che includa il rilascio immediato di tutti gli ostaggi in cambio di un rilascio di massa dei detenuti palestinesi, invece di continuare con i piani graduali dispussi finora. Un'opzione che viene definita possibile ma lontana dall'essere realizzata a causa delle frizioni politiche nell'esecutivo israeliano. A questo proposito un politico di spicco di Hamas, Khalil Elaya, ha detto a Associated Press che il suo gruppo è pronto ad accettare una tregua di almeno cinque anni con Israele e che deporrà le armi e si convertirà in un partito esclusivamente politico se verrà fondato uno stato palestinese indipendente lungo i confini precedenti al 1967. È un'affermazione che torna con insistenza nelle ultime settimane ed è probabilmente la più importante apertura da parte di Hamas a una soluzione politica. Secondo Associated Press è comunque improbabile che Israele prenda in considerazione uno scenario del genere, avendo promesso di eliminare Hamas. In chiusura, è un periodo strano in cui certi termini vengono considerati un po' tossici e un po' polarizzanti, tra questi la parola resistenza. Ma resistenza è una parola tossica e polarizzante solo per chi sta dalla parte degli oppressori. E quindi permettetemi, con un po' di presunzione, di chiudere con le stesse parole di un grande antifascista come Pietro Calamandrei, che lo utilizzò per una lapide a ignominia nei confronti di Albert Kesselring, comandante in capo delle forze di occupazione in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo Kesselring, gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento durante i 18 mesi di occupazione, tanto che avrebbero fatto bene a erigergli un monumento. Bene, la lapide, che contiene uno dei passi più forti e più poetici della nostra storia contemporanea legata a quel periodo, è collocata nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo. Ve la invito, vi invito ad andarla leggere e termina con poche semplici parole. Ora è sempre resistenza. A domani.